Io so che sono le olimpiadi del social, dei social network, so che l'hanno raccontato tutti e so anche che è vero, nel senso che chiaramente è la piattaforma ideale per fare circolare informazioni, pareri, punti di vista personali, critiche, emozioni, pareri e tutto il resto, però a me è piaciuto molto l'idea di social che invece ha portato in campo Danny Boyle, che invece era il vero social, quello prima dei social network, quello dell'era analogica, cioè del sociale come persone che condividono delle esperienze, persone che si fanno forza anche durante delle tragedie come può essere la guerra e quindi voglio dire, chiamiamola l'olimpiadi dei due social, l'Inghilterra ci ha ricordato anche che esiste l'altro modello, come dire, i new media tutti i giorni ci ricordano che esistono i social network.